Verona e Fiorentina Verona e Fiorentina, incontro tra deluse Un pomeriggio per tornare a sorridere, una partita per iniziare col piede giusto settembre, quando, secondo alcuni, inizia la vera stagione. Lo sperano anche Fiorentina e Verona, che oggi alle 15 al 20 godi si incrociano per il match valido per la terza giornata di Serie A. Una sfida che pone di fronte due squadre non esattamente brillanti nelle loro prime uscite, visto che gli scaligeri hanno raccolto una sconfitta pesante in casa con il Napoli ed un pareggio esterno a Crotone per 0-0, senza mai convincere. I viola, invece, sono crollati prima a San Siro con l'Inter e poi in casa con la Sampdoria, evidenziando diversi problemi. Anche in casa Hellas non è tutto rose e fiori, a partire dal rapporto piuttosto teso tra Fabio Pecchia, allenatore, e Giampaolo Pazzini, capitano. Oggi per la prima volta il tecnico dovrebbe dare una chance dal primo minuto al grande ex di giornata, affiancando gli Romulo e Verdi. Bessa girà a centrocampo insieme a Buckele e Bruno Zucculini, mentre la retroguardia davanti a Nicolà dovrebbe comporsi di sopra Ien, Alex Ferrari, Cacere Sede Urtaux, con l'Under 21 italiano candidato a giocare sulla fascia destra da terzino. Assenti Felicioni, Brosco, Bianchetti, Franco Zucculini e Cerci. Gli ospiti dovrebbero invece presentarsi con il classico 4-2-3-1 con tante, tantissime novità. La coppia centrale davanti a Sportiello dovrebbe essere ancora composta da Germain Pezzella e da Stori, ma sulle fasce i ballottaggi sono aperti, favoriti Bruno Gaspar e Biraghi. Verre e Tutta a Badelli sono le certezze in mezzo al campo, così come Chiesa e Tereo sulle corsie e Simeone da punta. Sulla tre quarti Benassi è invece insidiato da Gil Dias, mossa a sorpresa e che potrebbe chiamare Tereo a stringersi dietro l'attaccante argentino. Aoteis Richessaponara. Verona, 4-3-3, Nicolà, Ferrari, Caceres, Eurtaux, Zupraien, Bizzuculini, Buckel, Bessa, Romolo, Pazzini, Verde. Ol. Pecchia. Fiorentina, 4-2-3-1, Sportiello, Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelli, Beretout, Chiesa, Benassi, Tereo, Simeone. Ol. Pioli. Arbitro della sfida, che si giocherà alle ore 15 al Bentegodi di Verona, sarà D'Amato.